Arriverà tra poche ore l'ordinanza della Regione Sicilia che prevede l'obbligo di mascherina anche all'aperto 24 ore al giorno. Il Presidente Musumeci risponde così ad alcuni atteggiamenti irresponsabili che hanno portato ad un picco nei contagi, mettendo a rischio la tenuta del sistema sanitario regionale. Il testo atteso nel pomeriggio sarà in vigore dal 30 settembre al 30 ottobre, molto più a lungo di quanto previsto dalle Regioni che finora hanno già imposto l'obbligo Campania, Calabria e le città di Foggia e Genova, che terminerà il 4 ottobre. Salvo nuove emergenze che sono purtroppo dietro l'angolo, visto il continuo aumento dei focolai in tutto il Paese. Messuna Regione ha contagi zero e i dati di ieri mostrano in un momentaneo calo, numeri comunque in crescita da 8 settimane. 1776 nuovi positivi di ieri, un dato indieve calo, a fronte però di 20.000 tamponi in meno rispetto al giorno precedente. Osservati speciali Campania, Lazio e Sardegna, le Regioni a maggior aumento di nuovi casi, in cui, secondo il Consigliere del Ministero della Salute, Varte Ricciardi, si sta perdendo il controllo della pandemia. Il rischio di nuove chiusure si avvicina, a meno di comportamenti virtuosi da parte di tutti i cittadini, se non volontari necessariamente costretti dalla legge, come l'obbligo di mascherina. Dispositivo che, secondo i ricercatori statunitensi, potrebbe diventare una sorta di vaccino rudimentale contro il Covid. Schermando la maggior parte delle particelle virali, quelle poche che passano permetterebbero all'organismo di reagire il virus attivando una lieve infezione senza sintomi e arrivando così ad una sorta di immunizzazione di massa in attesa del vaccino vero.